Mi sembra che nell'Italia ci fossero 12 sigli di sindacati, scioperavano in maniera selvaggia, una volta non i bagagli, una volta i piloti, una volta le host, c'è sempre qualcuno che lo lasciò operare, bene, ha perso un milione di euro al giorno per 15 anni, ha fatto un buco nelle casse statali e alla fine è fallita. Il diritto di sciopero è sacrosanto e costituzionale se ti fanno qualcosa di, come dire, se c'è un abuso di potere, non mi sembra che oggi in Italia nessuna azienda abusi dei propri lavoratori, io vedo la disoccupazione in Inghilterra a 6%, la gente non fa sciopero, abbiamo 400 mila italiani a Londra, è come una città intera, che fanno lavori di ogni tipo, di tutti i tipi, hanno tutti i diritti, non c'è nessun abuso e quindi secondo me dovremmo cercare di uscire da questo confronto, io contro te, qui in Inghilterra, governo, paese, le forze sociali, pensano solo a come facciamo crescere la torta, nostra inglese rispetto all'Europa, i cinesi, gli americani, gli indiani, da noi tutte le energie sono perse nel dividersi la torta. Flessibilità di entrata e uscita, sono parolacce secondo voi? No, ma ce n'è già anche troppa, il problema è che dietro la parola flessibilità in entrata e uscita stanno dicendo possibilità di licenziare, vorrei che si chiarisse il punto. E questo secondo voi è un vulnus intollerabile, impossibile da superare? Come dice il Papa, il lavoro deve avere dei diritti, perché se un lavoro non ha diritti siamo allo schiavismo e quando si dice reintegro vorrei che fosse chiaro a tutti cosa vuol dire. Stiamo parlando di licenziamenti individuali, se un lavoratore viene licenziato ingiustamente oggi un giudice può dire reintegro e quando dice reintegro? Quando dice che la motivazione portata dall'azienda è falsa, cosa vogliono fare? Che anche se l'azienda porta una motivazione falsa, con un po' di soldi è risolto ogni problema. Quindi si introduce il concetto che tutto è monetizzabile, quindi il rapporto di lavoro diventa come un rapporto commerciale qualunque, anzi peggio. L'idea è che per creare lavoro in Italia bisogna licenziare, far pagare un po' meno di tasse alle imprese, così non si va da nessuna parte. Sento sera, articolo 18, il dibattito è aperto ormai da anni, è un problema secondo lei o no? Qui in Inghilterra io posso assumere e licenziare, l'ho fatto per vent'anni e il processo è molto corretto. Se tu vuoi licenziare una persona c'è una procedura che ti dice cosa devi fare, ci sono diritti ed è molto chiaro, la legge del diritto al lavoro è 40 pagine, in Italia sono 450 articoli. La flessibilità, io vedo l'Inghilterra, funziona bene perché c'è flessibilità in entrata e all'uscita. Quindi quando qualcuno perde posto di lavoro non è un dramma, perché tanto lo ritrova. Chi soprattutto lavora in aziende industriali in Italia, pensa cosa si trova. Abbiamo fatto la scelta che non vogliamo nucleare, rispettabilissima. Adesso paghiamo l'elettricità al doppio rispetto alla Francia e tra uno o due anni il quadruplo rispetto agli Stati Uniti. Poi non puoi voler dire alla Thyssen, scusa producimi acciaio, ferro, che è ad alto consumo di energia, quando la nostra elettricità costa il doppio che altrove.